ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della tecnologia benvenuti la mia umile dimora nella mia bellissima casa e adesso andremo a fare quella cosa che vi ho pronunciato ieri sera lo sapete che devo fare oggi? ve l'avevo detto ieri sera chi è che si è preso il video ieri sera? ah se voi siete perso perché non sapete quello che devo fare considera che ieri sera ho registrato che ero proprio stanco 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 però oggi sono bello riposato e potrei cominciare il nuovo progetto l'ho fatto apposta ragazzi non dormi presto con calma che oggi devo iniziare questo nuovo progetto che era abbastanza complesso oddio complesso un po' particolare insomma ho bisogno di tante belle cose ma tanto prima di cominciare insomma voglio farvi vedere un po' allora prima di tutto la meccanism ricordate che ho fatto la cosa della brina giusto del cosa sale funziona bene la brina arriva però non arriva a sufficienza comunque si ne arriva parecchia ma non quanta dovrebbe quindi ho dovuto riattaccare qualche salinatore non ho messo molti tipo 4 o 5 decisamente non bastano devo rimettere una decina come ce l'avevo prima arriva a 10 11 12 oppure 20 però non mi va ce l'ho un botto per crearne uno quindi sinceramente voglia non ce l'ho però va quindi finché va è tutto a posto la quinta obbligazione che ha qui ragazzi continuo ad andare avanti vedete l'oro che viaggia senza problems e tutto va very good ok oltre a questo ho fatto un bel po' di modifiche ho tipo tolto qui tutti i due craft che non mi sono più a cazzo qui l'acqua continua ad arrivare a mazzetta e qui invece ho fatto un bypass dei tubi perché avevo finito il canale ho dovuto fare un po' macello però funziona tutto ragazzi è tutta una questione di canali che finiscono se non avete capito qualcosa ripeto scrivetemi non ho capito non ho capito e io vi faccio tutto sto off al video soltanto che la questione è che quello che non avete capito che molti mi hanno scritto che non hanno capito è sempre la stessa roba io non posso ripeter 60 volte la stessa roba però a quanto pare se ancora non avete capito lo ripeto non c'è un problema allora che mi serve a me chiocciola remain in motion ecco qui ragazzi adesso la gente dirà si più o meno avete capito ma non proprio adesso vi farò vedere io come la faccio questa è la versione xander della scavatrice che si faceva nella vecchia lontanissima 147 che si ricorda l'147 quando si faceva la scavatrice automatica con sta mod che era una volta una volta si chiamava quella con i motori era sempre la progett red mi pare può darsi che era sempre della progett red non mi ricordo comunque devo fare lato craft e tutti sti cosi perché decraftarli a mano non esiste proprio guarda non ci perdo proprio tempo chi ve se schioppa sinceramente ecco famo così due di questi e passiamo al successivo ragazzi tutti i craft sono semplicissimi è una stupidaggine però in particolare a me non servono questi perché ragazzi a differenza della vecchia versione oltre ai frame normali ci sono vari tipi di frame guardateli sono dei frame particolari e ognuno ha il suo effetto quello che serve a me se non sbaglio è il blu non vorrei sbagliarmi mi ricordo che l'ho fatta con i blu boh famo un po' di blu il blu una cazzata ragazzi guardate carriage framework più il blu non cambia niente cioè non è che ci vogliono più materiale o chissà cosa basta cambiare il colore perché vedete gli arancioni si fa con l'arancione e il viola con il viola e il rosso con il rosso e il rosso non me li fa fare ah i rossi ragazzi sono cittosissimi ecco perché lo sapete che fanno questi ragazzi praticamente memorizza quello che c'è nell'aria cioè praticamente sdoppia le cose a random proprio sdoppiamento citto bug a go go quindi il craft non è disponibile però in teoria potrebbe essere utilizzato super citto ok ragazzi quindi frame blu ne facciamo non vi credete non me ne servono molti anche tipo una decina ne bastano facciamone 30 perché tanto c'è materiale quindi se ne fotte via però non ne servono molti alla fine e oltre a questi blu adesso ragazzi servono un casino di materiali base e soprattutto la cosa più importante che serve sono questi qua ragazzi guardate annihilation questi qua ragazzi me ne servono un botto di questi veramente veramente un botto vediamo quanti riesco a farne 23 non mi bastano manco per niente 23 voglio altri altri fluid crystal ok metto un craft 1000 fluid crystal ragazzi così il problema si è risolto chi se ne frega tutto a posto risolto gg molto bene allora cominciamo il nostro progetto che però voglio cominciarlo in un punto dove la mia scamatrice comincerebbe già a lavorare quindi vorrei farlo tipo già un po' interrato in modo che non debba spostare ogni volta l'unico allora un problema di quella cosa è che non sposta i liquidi quindi i liquidi sarebbero un serio problema allora 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 eccoci qua perfetto possiamo cominciare a parte gli fps che sfanculorano ma fote cazzo dovrebbero essere bloccate a 30 invece fanno 29 30 32 34 36 boh non so che problemi c'è allora come dobbiamo lavorare al nostro macchinario prima di tutto mi servono dei cavetti dell'ME e la base da cui cominciare che erano eh quei cose mi chiamano frame come erano? no erano carriage eccolo qua ok ne abbiamo ben 32 allora la struttura che devo creare è tipo una cosa del genere guardate allora adesso la faccio piccolina ragazzi e poi se funziona va tutto bene perché non l'ho testata sul server quindi non lo so la facciamo più grande non è un problema allora fate esattamente quello che faccio io eh spero che il video non stia venendo male perché vedo qualche cosa che non mi convince sul programma molto bene allora dicevo eh dobbiamo mettere però un bel controller qui sopra allora ragazzi questo macchinario è molto particolare perché io ripeto non so se funzionerà però se viene fuori una cosa funzionante dico well play e gg non ho parole per quello che ho fatto ok in teoria questo frame sposta tutto ciò che è attaccato l'importante è che abbia almeno un blocco di contatto non importa quanto sia grosso il contatto basta che sia un blocco solo e poi non importa che il frame tocchi direttamente il macchinario voi direte che cazzo sta di questa ragazzi questa è una vecchissima mod che aveva delle delle limitazioni terribili che ti impedivano di fare qualunque cosa figa tu volevi fare con la nuova versione invece è diventata molto più semplice da usare ci sono un sacco di opzioni in più e una delle opzioni che io andrò a utilizzare sarà questa qui del fatto che vedete posso tirare i cavetti così e li sposta comunque nella vecchia versione non l'avrebbe spostati vedete perché è perché se giocate se provate la vecchia versione vedrete scaricate la 147 tipo la ftb ultimate e provate i motor i carriage motor e vedrete che è un casino allora quello che devo fare io adesso qui è un bel muro utilizzando ovviamente gli anchor vedete perché gli anchor ragazzi vi sto registrando tutto perché è importante questa cosa perché poi non capite niente di quello che ho fatto perché è importantissima questa cosa è importante limitare i canali cioè perché? perché massimo noi possiamo mettere 8 canali sapete com'è la storia dei canali no? ogni cavetto può portare massimo 8 canali esatto quindi noi dobbiamo splittare questi canali sul cavetto quindi non possiamo farli toccare tutti a incrocio fare un filtro unico gigante dobbiamo dividerli pian piano e in particolare però devo mettere all'esterno i cavetti questi qua i smart cable esatto eh purtroppo è così raga non posso fare altrimenti ehm smart cable perché gli quelli piccolini non quelli grandi vedete perché? perché ci dove attaccare gli annihilation quelli che ho fatto prima gli annihilation ragazzi non vanno attaccati a quelli grandi perché non si attaccano non ci posso fare niente quindi dobbiamo fare una cosa del genere guardate l'unica cosa è che facendo così guardate cosa sto facendo 2,3,4 in questo modo ho già occupato 6 più 6 più 2 sono eh sì scusate 6 più 2 sono 8 3 più 3 fa 6 più 2 è 8 ragazzi ho già occupato 8 canali non ho fatto niente ho fatto solo una parte sotto capite quindi dovete distribuire per forza con gli anchor altrimenti non viene a fare un cazzo di niente si impalla tutto e mi raccomando utilizzate quelli piccoli perché se utilizzate quelli grandi gli annihilation non si attaccano la stessa cosa la devo fare qui questo è stile space engineers ragazzi è da space engineer che è venuta questa idea preciso preciso all'astra grande ok guardate qui cosa ho fatto tadaaaan e adesso devo andare a mettere l'anilation core tutto intorno guardate ragazzi ho separato vedete 3 linee una sotto una al centro e una sopra perché i canali non bastano quindi dovete stare attenti a quello che fate e pappé poi se fate le stronzate come me così perché non avete le mani monche non riuscite a premere C per vorare con il jetpack allora siete stronzi baggio di me però sono dettagli ok quindi possiamo mettere altri 8 canali anche sopra ed ecco qui la nostra scavatrice pronta vedete che cazzo hai fatto questo è un muro di annihilation si ragazzi lo sapete che fanno gli annihilation plane gli annihilation plane ragazzi aspirano qualunque cosa hanno attaccato davanti e non sono considerati blocco quindi se io dovessi mettere se ci fosse della cobblestone qui vedete l'aspirano voi direte è possibile una cosa del genere si è possibile è possibilissimo lo sapete adesso che faccio guardate apri tutto prendo un bellissimo drive non c'è dubbio poi altra cosa che servono sono dischi quindi prendo degli storage ovviamente vorrei utilizzare le 64k ce ne ho un po' craftati se non sbaglio si andiamo un attimo sopra perfetto adesso vado a riempire di drive il mio storage una cavolata guardate fatto perfetto e adesso ho bisogno di una fonte di energia voi direte metti un tesseract si posso tranquillamente mettere un tesseract l'unico problema di tesseract ragazzi è che vanno a coordinate e il fatto che il tesseract si sposti potrebbe far crashare il server ma non è detto se dovesse succedere ciccio pasticcio altrimenti altrimenti invece di perdere il server a sto punto mettiamo una cella normale carica magari una resonant che occupa 50 milioni che prima che si spengi c'è una vita e gg well played dove la posso mettere a caricare dove la carico dove la carico dove la carico dove la carico ok l'ho messa qui a caricare così si carica perfetto sta caricando la velocità disumana a posto gg ok la cella ce l'abbiamo e adesso servono due cosettine molto importanti la prima che noi craftammo tempo fa è il timer ricordate il timer ragazzi è quello lì che abbiamo utilizzato per la nostra batteria e guarda un po' non fa altro che ticcare redstone perfetto e fino a qua ci siamo una stupidaggine un'altra cosa che ci serve la cosa secondaria in teoria sarebbe il modo per spostare questi cacchio di frame e un'altra cosa aspettate non me la posso dimenticare il wireless oddio se mi dimenticò questa cosa era finita il wireless receiver e transmitter ragazzi perché la nostra scavatrice adesso la controlliamo tramite wireless quindi ovviamente è un wireless receiver con frequenza 1000 1001 perfetto e poi a casa o magari proprio lì sotto alla zona do craft perché no perché no mettiamo una bellissima leva se ce l'avessi il lever eccola qui una bellissima lever con il wireless transmitter e mettiamo frequenza 1001 perfetto on e adesso dovremo vedere il segnale redstone che arriva qui e blocca il timer perfetto ragazzi questo sarà il sistema di accendimento e spegnimento della nostra scavatrice insomma la teniamo qui così magari dobbiamo spegnerla a distanza la spegniamo senza creare problemi al server sperando di non creare dei problemi preciso ok l'ultima cosa che serve è il nostro coso qui chiocciola remain quello che serve è il carriage engine questo qui il primo che non c'è il craft perché non c'è il craft non lo so ragazzi per qualche strano motivo non è craftabile in teoria l'ho fatta la resa cioè la so cioè in teoria dovrebbe essere what the fuck dovrebbe essere questo più redstone torch così così dovrebbe uscire fuori il carriage engine io non capisco dov'è dov'è l'errore ok ragazzi mi sono fatto la resa perché a quanto pare non andava l'ho fatta io non so che altro fare dovrebbe andare se metto carriage vediamo un po' carriage motor perfetto il carriage engine va la resa è questa non capisco forse un bug nel crafting non so il ticcio che l'ha fatta non l'ha fatta bene considerate che è un porting cioè è stata portata dalla 164 alla 1710 perché il proprietario vero della mod non lavora più questa mod non si sa perché ok quindi dobbiamo mi è dovuto spegnere prende la batteria ok diamo corrente all'upload vediamo se va vediamo un po' 3 2 1 perfetto upload online ragazzi guarda un po' tutti i canali occupati al massimo e adesso non devo fare altro che accenderla oh aspettate manca il region jane perfetto dovrebbe partire ragazzi proviamo vediamo un po' se i pannelli si sono accesi si ragazzi guardate vedete che sono cambiati per prima guardate indietro il video guardate come erano fatti tipo tutti a pallini adesso c'è la riga che scorre guardate che figata adesso funziona proviamo eh provo eh vado eh tiro la leva vediamo che succede il bordello esploda il server 3 2 1 boom ecco qui ragazzi funziona guardate la scavatrice è partita e guardate gli alienation pain che aspirano i blocchi oddio bellissimo ragazzi wallbraid gg ragazzi oh oh e se magari sotto si bagga tutto mo ah no aspira tutto gg basta perfetto ragazzi questa è la scavatrice versione Xander spero vi sia piaciuta questa scavatrice se vi è piaciuta lasciate un mi piace se avete ancora domande che non avete capito me lo fate sapere e in teoria questa app si sta riempiendo di roba uno po' grid ancora che potrei fare è mettere un quantum link e fare l'app ed è ancora più grande tipo super mega big sai che figata oddio allora ragazzi questo video è tutto io lascio girare la scavatrice vediamo che succede ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti bella